Ah, e... però c'è una persona che dorme qui a fianco al mio letto, scusami? Ma... ma c'è il... Nooo! Vabbè, lasciamolo dormire, l'erò del tempo ha bisogno del suo riposo di bellezza. Ed eccoci tornati su Super Mario RPG! Nello scorso video abbiamo recuperato la seconda stella, il secondo frammento di stella. Abbiamo fatto amicizia con Geno e possiamo proseguire la nostra avventura. Proseguiamo il viaggio, andiamo a Tunnel di Tubi e potremmo andare direttamente al Tarponia, pare. Ma... e già la vedo roba tipo una meteorite gigante. Però andiamo a Tunnel di Tubi, non so dove possono portarci. Però magari è un posto carino. Proviamo! Wow! Aiuto! Ok, voglio combattere il rifiammetto. Ok... Geno con un attacco normale gli ha fatto un bel danno. Ok... Ah! Ah! Bene, 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 ho capito. Quindi devo saltare praticamente in contemporanea con lui se non voglio rimanere coinvolto nell'onda d'urto. Va bene. Ma mi sembra un posto piuttosto semplice questo da... Da affrontare? Perché beh... Oh, oh, io, i pianta piragna! Wow! Vai col super salto! Non è bastato il super salto a farla... Cielo! Wow! Dieci soldi li ho fatti in testa e niente! Più che altro ho dato... A Mello il... L'anello per non diventare uno spaventapasseri. Quindi non ce l'aggino. Però vabbè, dai. Aspetta. Quindi questa non è? Ah, sì, quello era. Però potevo entrarci comunque. Questo anche. Salve. Ehi, amico, fatti avanti. Basta in dieci momenti per schiacciare qualche goomba. Certo, perché no? Non conosco le regole, però. Se colpisci un goomba ottieni un punto. Se colpisci un goomba a spino perdi un punto. Se colpisci un goomba dorato ottieni tre punti. Se otteni almeno 20 punti riceverai un premio. Ok, non serve che tu ripeta. Grazie. Ok, vai. Bene. Vai, 21 punti ci sto. Potrei anche fermarmi. Però chissà se faccio un punteggio particolare. Eh, sì, potevo colpirlo quello, ma non ero molto coordinato proprio lì al momento. Ecco col tuo premio. La prossima volta se riesci a conquistare almeno 22 punti te ne darò un altro. Ma ne ho fatti 22. Scusami. Dai. Vediamo questo, vediamo. Ah, ma questo è il mondo di Super Mario. è il mondo 1-2. Non è proprio uguale, ma ce l'ha molto vicino. Ah, cazzarola. me la fatte perdere monete. Io come un tonto pensavo che me le stesse regalando, invece no. Che tonto. Eh, che caspita. Basta, aiuto! Basta! Che stupido che sono stato. Pensavo me le desse, invece me le stavo a togliere. Oh, cielo. Isola Yoshi? Ah, sono all'isola Yoshi. Ok, ciao, Yoshi. Ehi! Ah, ti ho interrotto la gara, scusa. Che bellino! Cioè, che bellini tutti quanti. Oddio. Cattivo questo, arrabbiato. Che bel posto. Guarda. Qui fanno la gara. Oddio, Yoshi, Yoshi. Mari, finalmente sei arrivato sull'isola Yoshi, teatro della corsa a fungo. Senti, visto che sei qui, prima ho bisogno del tuo aiuto. Parla con i miei amici qui e... Come, non capisci quello che dicono? Beh, salta su, ti farò da interprete. Sei fuori, le cose sono la mia vita. Potrei correre tutto il giorno, ogni giorno. Tempo fa, visto una stella cadere dalle parti di Talponia. Eh, pensavo, sì. Se mi vuoi spiegare, devi portarmi dei biscotti, ma scusami. Sarebbe molto più bello se potessimo correre tutti insieme. Hai proprio ragione. Bosh è più veloce di tutti qui, ma è anche uno pieno di sé. Pensi di riuscire a battere il buon vecchio Bosh oggi, certo. Ecco, tieni i biscotti in bocca al lupo. Grazie, ora con un grado tipo alle mie spalle probabilmente riuscirò a vincere. Bosh gareggia solo uno contro uno, quindi non si può partecipare tutti insieme, peccato. Ma scusami, che cattivo Bosh. Sì, sì, dai. Ti sei appena guadagnato una gara uno contro uno. Ci gareggiamo, no, non lottiamo. Chi si rivede, preparati per la corsa a fungo, ci serve una spiegazione? Sì, sinceramente. Premi A e B alternandoli, seguendo il ritmo. Più rapido il ritmo, più veloce andrai. Mentre corri premi Y per mangiare un biscotto. La sua energia ti farà andare più veloce. Ehm, no, ho capito. Continua a premere A e B seguendo il ritmo della musica. Fai un po' di pratica. Alla gara, dai. Andiamo alla corsa, sì. Sicuramente perdo perché... È davvero una bazzeccola, amico, no? Già, sto andando con la musica. Boh, non lo so perché, ma ho perso alla grande proprio. La mia cosa è un po' di buttons. Oh, prend' un'ottima e скажi? Eh, eh. Zaροge. Periente, ma chi minions alcool suono al pasticò Oh, prendì un po' di posición. Guarda, ma chi exhausting le diverse. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Bene Wow, incredibile, ha battuto Boshi Da oggi Yoshi è il nuovo campione in carica Dove ho imparato a correre così? Vabbè, mi sono goduto la gloria finché è durata Ma tirò un consiglio Gareggia solo contro gente lenta Così potrei fare scorta di biscotti Ma non ci serve un capo Non importa, voglio solo correre Voi che dite ragazzi? Forza Boshi Vediamo di che pasta sei fatto Ok, vedi di non intracciarmi Ah, questi sono i biscotti per il vincitore Grazie a te Mario Sono finalmente riuscito a battere quel furfante E adesso possiamo correre tutti insieme Eccoci un ricordino Se ti trovi in uguale durante un combattimento Usane uno per chiamarmi Forte, allora contro il prossimo boss Magari possiamo provare a usarlo Correte ragazzi, correte pure Ok, sì, magari ti parlo un'altra volta Oh cielo, dove siamo finiti? Ah? Che bella l'isola di Yoshi Beh direi però che per questo video è tutto amici Io andrei a salvare a Borgorosa a questo punto Vi ringrazio per aver seguito il video Nel prossimo Androtta Alponia E vedrò magari di recuperare anche Il terzo frammento stella In descrizione trovate tutti quanti i link utili E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video Ciao! Ciao!